Buonasera a tutti, eccoci qui per la diretta. Allora, carburanti, Giorgetti, se i prezzi aumentano il governo valuterà il taglio delle accise. Intanto sappiamo tutto delle accise, dell'aumento della sperequazione un po' in tutta Italia, ci sono inchieste in corso per vedere chi sta lucrando su questa situazione. Sappiamo addirittura di chi fa il furbo scambiando il prezzo del servito con quello del self. Insomma, ci stanno raccontando veramente tutto ed è importante che sia così. Però fateci caso, noi è giusto che sappiamo e che vediamo i giornali, i giornalisti impegnati in questa tabella. Però perché non possiamo sapere quanto stiamo spendendo in armi, quanto stiamo spendendo per fornire le armi all'Ucraina? No, lo dico perché gli italiani non sono così convinti della bontà dell'operazione la pace uguale a armare l'Ucraina. Cioè, in Italia tutta questa spinta verso la corsa all'armamento o agli armamenti non convince. Gli italiani sono convinti che la pace forse si può raggiungere puntando sulla mediazione, non armando sempre di più. Quindi, forse sapere quanto ci sta costando questo intervento, questo aiuto, quanto stanno costando le votazioni che nella passata legislatura erano cominciate sempre con il nostro voto contrario. Io non ho mai votato neanche una volta, a differenza del Movimento 5 Stelle. Noi non abbiamo votato neanche mai una volta un decreto che portasse all'acquisto, quindi alla spesa di soldi pubblici per le armi. Però sappiamo tutto delle accise ed è importante perché questo è comunque un tema. È un tema che si inserisce dentro il caro bollette, dentro il caro energia, dentro il caro carrello della spesa. Insomma, è come se stiamo pagando. Però ci dicono che non ci sono i soldi per intervenire su tutto. Cioè, le accise sono state... cioè, il bonus, lo sconto sulle accise era stato tolto perché non c'erano sufficienti coperture. Allora io domando, forse se sapessimo l'ammontare di tutta quell'operazione militare, forse molti italiani inizierebbero a dire, beh, facciamo così, facciamo che prima iniziamo a coprire interamente il fabbisogno in un momento emergenziale e poi sicuramente andiamo a salvare il popolo in difficoltà. Apro e chiudo parentesi. Complimenti ai giornalisti che hanno stilato un documento di severo monito nei confronti della categoria. Parlo di Toni Capuozzo, di Alberto Negri e di alcuni altri che stanno facendo l'esame al giornalismo italiano che, a loro dire, e io sono completamente d'accordo, non sta dando e non sta fornendo gli elementi di analisi corretti per capire la genesi della guerra in Ucraina e capire che cosa realmente sta accadendo. E se tu lo fai rischi, pur essendo stato e pur essendo un ottimo giornalista che sta facendo un ottimo giornalismo, rischi di essere classificato tra gli amici di Putin. E poi magari fanno partire quelle operazioni di fact checking e cazzate varie per ostacolare la tua buona informazione. Quindi è sempre un guai a chi racconta un qualcosa di diverso rispetto al mainstream. E quindi il giornalismo deve essere soltanto quel tipo di giornalismo lì, anche a costo di sporcare il giornalismo stesso, la missione del giornalismo stessa. Che è ciò che stanno dicendo questi colleghi. Noi non siamo, dicono, e sono d'accordo, noi non siamo filoputiniani, noi stiamo mettendo a disposizione dell'opinione pubblica tutti gli strumenti di analisi per capire quello che sta accadendo. Stiamo dando delle informazioni, anche per esempio sapere quanto costa questa operazione di armamento. Io credo che i cittadini italiani lo debbano sapere. Credo che sia importante. Però lo ripeto, non ci sono mai soldi. E non ci sono i soldi perché stiamo dentro, tra le altre cose, siamo dentro il perimetro tracciato dall'Unione Europea. Quell'Unione Europea che fino a poco tempo fa diceva ai governi non vi preoccupate perché c'è l'Europa. L'Europa a cosa serve se non nei momenti di crisi? E infatti la Banca Centrale Europea, nel tempo del successivo lockdown, anche economico, oltre che sanitario, del periodo del Covid, aveva detto cari governi non vi preoccupate perché ci sarà la BCE a comprare il vostro debito. Quindi sospensione del patto di stabilità, lo dice l'Europa, la BCE che copre le spalle e in più dalla Commissione Europea c'è l'invito ai governi di indebitarsi per sostenere la crisi o gli effetti della crisi. Poi che cosa succede? Che ovviamente questa emissione di liquidità di denaro incredibile fa scoppiare l'inflazione, nel costo del denaro è alle stelle e la BCE, come altre banche centrali, si ricorda della propria mission. E quindi dice noi non rinnoviamo più il debito pubblico, arrangiatevi. E secondo voi cosa vuol dire arrangiatevi? Vuol dire che i governi dovranno ritornare sui mercati per rifinanziare il debito, che nel frattempo era stato stimolato dalle loro scelte, dalle loro indicazioni, ma che ovviamente è un prezzo. Qual è il prezzo che i mercati mettono subito sul tavolo? Quello di essere sicuri della ristrutturazione del debito e quindi che cosa vuol dire? Taglia le pensioni, taglia la sanità, taglia insomma quella spesa pubblica che abbiamo visto essere fondamentale. Allora che cosa ti dice come ultimo pezzo del nostro regimento politico? Cosa ti dice la BCE? Cosa ti dice l'Europa? Cara Italia, eh lo so, sei in difficoltà, lo sapevo benissimo, però sei l'unica che ancora non ha ratificato il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Quindi il ricatto sottile, mica tanto, è quello di spingere il governo italiano per avere qualche soldo in più, spingerlo a ratificare il MES che è la istituzionalizzazione del programma Grecia. Questo è quello che sta accadendo. Allora se Giorgetti dice se i prezzi aumentano il governo valuterà il taglio delle accise, io mi domando, caro Giorgetti, caro ministro dell'economia e delle finanze, io penso che dobbiate già adesso vedere questa cosa. Perché in campagna elettorale tutti i partiti, soprattutto del centro-destra, dicevano che le accise erano un pezzo del prezzo della benzina, comunque del carburante, che era vergognoso per l'alta incidenza fiscale. Questo era stato un impegno. Non si può dire tutto entrato, ah però se le riduciamo per tutti facciamo un torto a chi ha i soldi rispetto a chi è in difficoltà. No, perché in campagna elettorale si era detto che l'abbattimento delle accise o la sterilizzazione delle accise comunque era per tutti, era erga omnes, era un intervento generale. Quindi io penso che questa promessa debba essere in qualche modo ripresa con serietà dal governo. Sempre vado random un po' nei siti, Ryanair le tariffe salgono del 10%, sì perché anche il periodo del low cost o anche il miraggio dei voli low cost tende a frantumarsi come sogno del viaggiare a basso posto perché il carburante costa quello che ben conosciamo. Un grande in bocca al lupo a Matteo Richetti che si è sentito male in aula, è ricoverato al gemelli, quindi davvero un grande in bocca al lupo da parte mia e da parte nostra. Io penso che la rassegna stampa serale dei fatti di giornata la possiamo dire conclusa. A domani, ciao a tutti!